Ciao Coutier, bentornato da Carlo. Oggi proviamo a diventare pittori. Infatti parleremo della tavoletta grafica. Ce l'hai una tavoletta? Mi potrai rispondere di legno, però non di legno. Una tavoletta grafica? Non sai cos'è una tavoletta grafica? Beh, non ti preoccupare, non lo so nemmeno io. Allora, cosa dobbiamo fare? Come tutte le cose, quando non conosciamo un qualcosa, andiamo sul web, su internet. Ad esempio, la nostra Wikipedia dice che una tavoletta grafica è una periferica che permette l'immissione di dati all'interno di un computer. Mi dirai, ma anche la tassiera è una periferica che permette di din, di din, di din. Esatto, ma questa è diversa. La tassiera, dalla digitazione, restituisce delle lettere, dei numeri, dei simboli, dei caratteri in genere. Con la tavoletta il limite è la tua creatività. Prova a chiederti, come è iniziato il signor Walt Disney a disegnare il suo primo topolino? Beh, naturalmente con foglio e matita, verosimilmente. Come nascerebbe oggi il nostro amatissimo? Forse con la tavoletta grafica. Sì, ma cos'è in fin dei conti? La tavoletta è un dispositivo di input, anche chiamato in inglese digitizer. Le dimensioni possono variare da modello a modello. Per un uso domestico puoi trovarne di piccole oppure grandi come i formati di foglio A3. Lo spessore invece è molto ridotto. È costituita da una tavoletta rigida al centro della quale è alloggiato un dispositivo, se vuoi più semplicemente una specie di monitor. La tavoletta è collegata dal PC poi tramite un cavetto oppure con tecnologia wireless. L'inserimento dei dati all'interno del computer avviene per mezzo di un pennino, tipo quelle delle console o dei cellulari touchscreen. In alcuni modelli le penne possono anche essere alimentate a batteria, ma c'è comunque l'effetto collaterale del peso della stessa, che per molte ore di lavoro può dar noia ai muscoli, o tendine delle mani. Sollecitare anche per un piccolo peso, ma per molto tempo, alcuni organi, muscoli e tendini può produrre anche delle patologie. Tramite il pennino, simulando la scrittura sulla tavoletta, potrai trasferire sul monitor e quindi all'interno del PC, ciò che scrivi, disegni, crei e successivamente salvarlo o editarlo. Il movimento della penna viene riconosciuto dalla tavoletta. L'intensità della pressione della penna produrrà linee più o meno marcate, grazie anche al programma di gestione dello stesso, che esalta le caratteristiche della tavoletta. Infatti potrà variare lo spessore delle linee e l'intensità dei colori, implementando le opzioni grazie alla possibilità di simulare strumenti tipici di un pittore, come pastello, arografo, pennello, ma comunque sempre solo con l'uso del pennino. Alcune penne sono dotate di pulsanti per ottimizzarne l'utilizzo ed a volte integrato un gommino nella parte superiore, come fosse una matita, per poter così cancellare quello che è stato appena disegnato o scritto erroneamente. Esternamente alla superficie di scrittura della tavoletta troverai, in base ai modelli, vari comandi che permettono di interagire meglio con l'opera in atto, come ad esempio lo zoom avanti, indietro, rotazione, spostamento delle immagini e pulsanti programmabili per accesso diretto ad altri programmi. Alcuni modelli hanno una riproduzione integrata del mouse con i tasti destro e sinistro ed addirittura la rotellina per lo scrolling. Ora reggiri forte, senti questa. Non sei capace di disegnare? Non ti preoccupare. Non so se adottavi questa tecnica, ma io da bambino, quando non riuscivo a disegnare qualcosa, prendevo il foglio da disegno, lo posizionavo davanti all'immagine e li poggiavo entrambi al vetro di una finestra, ricalcando in trasparenza tutta l'immagine con cura. Al termine avevo il mio bel disegno fatto a mano che necessitava della sola colorazione. Beh, che c'entra, mi chiederai. Qualche progettista, forse grande ricalcatore di disegni, si è inventato una tavoletta con in dotazione un foglio di pellicola trasparente sotto il quale tu puoi adagiare il tuo originale e con maestria ricalcarlo grazie al pennino che scorre sul foglio della pellicola trasparente, riproducendo così ogni cosa sul tuo monitor PC. Che spettacolo, vero? Da fare invidia giotto. Ma per cosa uso la tavoletta? Beh, normalmente queste tavolette sono strumenti utilizzati da professionisti del disegno tecnico, vedi AutoCAD, e grafici per disegni artistici, a mano libera, per fotoritocco o per la creazione di bozze, i quali hanno bisogno di una precisione maggiore rispetto al disegno col mouse. Ti immagini un pittore che usa il mouse? Meglio il pennello, il pastello, l'aerografo o cose di questo genere. Ecco appunto, se vogliamo, la tavoletta grafica può rappresentare tutti questi strumenti in uno. Uno strumento tecnologico di eccellenti caratteristiche che, integrato con ausili digitali, permette di creare opere di elevatissimo valore grafico. Quindi, mio caro Kudler, dipende da te ciò che vuoi farne. Puoi anche benissimo utilizzarla come rappresentazione grafica di un progetto durante una conferenza o a scopo didattico, in alternativa alle presentazioni o dispositivi audiovisivi, come ad esempio anche la lavagna luminosa. È versatilissima quindi, avrai capito. Ma se sei un grafico, di certo, non ti sorprenderà per le sue caratteristiche, come accade ai non addetti a lavori, come me d'altra parte. Beh, ma come scelgo? Bella prendo un dispositivo da specialista. Solo chi lo utilizza continuamente, o meglio ancora, a scopo professionale, conosce pregi e difetti dell'aggeggio. Se devi acquistare ad esempio una macchina fotografica, una videocamera o qualsiasi altro dispositivo, a che chiedi? Ai professionisti, quindi a chi è del mestiere. Non essendo io del campo grafico, evito di propinarti i protesi inverosimili. Quindi in questo caso siamo spiazzati entrambi. Comunque che dire? Che il Leonardo che è in te possa far esplodere la tua creatività. Ciao pittore! Bene, nella prossima lezione ti parlerò di un gruppo, ma non sarà un gruppo musicale. Ora come al solito, un grosso saluto. Ciao a presto da Carlo e dalla prossima! Ciao a presto!